Francesco Monte soffre, le ultime parole di Cecilia fanno male Francesco Monte condivide il suo dolore con i fan su Instagram. . Francesco Monte sta passando un periodo davvero difficile dopo la rottura con Cecilia Rodriguez avvenuta durante una puntata del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato lasciato davanti alle telecamere, lextronista di Uomini e Donne ha dovuto affrontare anche la nuova relazione di Cecilia con Moser. . Più volte Monte ha dichiarato di essere ancora innamorato della sorella di Belen Rodriguez. . I due però non si sono ancora incontrati per un ultimo chiarimento. . . Nonostante Francesco non abbia parlato molto del suo dolore, ha postato una foto su Instagram, aggiungendo come didascalia un chiaro messaggio. . . . Cecilia e Monte si incontreranno presto?. . Dopo essere uscita dalla reality Cecilia Rodriguez non sembra essere ancora pronta ad incontrare Francesco Monte. . . Ospite a Merissimo ha detto di non dovergli dare delle spiegazioni. . Secondo la Rodriguez lui forse non l'amava dal momento che voleva cambiare. . Oppure, all'interno della casa più spiata d'Italia lei stessa ha puntualizzato più volte il desiderio di voler chiarire un'ultima volta con l'ex fidanzato. . . Ad oggi, Monte attende ancora di poter parlare da solo con lei. .